Il preparatore della numero 58 Eurosped della Scuderia, stiamo parlando di Thomas Trombetta e Teresa Trombetta, K10 la categoria di questa vettura. Allora, prima volta con questa macchina, è importante arrivare in fondo, divertirsi e basta, niente da dire, speriamo nel tempo ma dovrebbe essere bello, niente, basta così, bravo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!